L'Europa è di nuovo sotto attacchi terroristici. Colpita la capitale belga di Bruxelles, la nazionale di calcio non si allena. Allenarsi oggi non è importante. Probabilmente sarà annullata l'amichevole del 29 marzo contro il Portogallo. La Serie A si svuota per le nazionali. Sono ben 154 i giocatori selezionati tra amichevole e qualificazioni al mondiale. La Europa lascia partire 14 giocatori. Seguono Juve, Napoli e Milan con 12. Il Minton si ferma a 10. Si sgonfia il caso antidoping nel mondo dell'atletica italiana. Tra gli altri scagionati, Brunati, Greco, Meucci e Uwe. Tutti questi atleti saranno dunque presenti all'Olimpiadi di Rio de Janeiro e l'estate, visto che hanno conquistato le qualificazioni in pista. Piovono polemiche sul numero uno del mondo dei tennis Novak Djokovic dopo alcune sue dichiarazioni. Noi dell'ATP dobbiamo combattere per ottenere una fetta più grande dei motripevi rispetto alle donne. I nostri match attivano più spettatori. Queste le parole del numero uno al mondo. Clamoroso tonfo di San Antonio che avanti di 20 contro Charlotte si fa rimontare e cede 88-91. Cleveland ha vita facile con Denver grazie ad un super LeBron James. Bellinelli segna 9 punti contro Chicago nella sconfitta dei Kings.